E salve ragazzi, io sono Pablinker e oggi siamo qua su Yakuza Kiwami 2 per inserire insieme una nuova serie, cioè sul nuovo gioco, su Yakuza Kiwami 2, che sarebbe un remake del secondo Yakuza. Quindi, andiamo subito a fare un attimo, vediamo se c'è qualcosa di interessante qua. Sì, sottotitoli sì. Ok, perfetto. New Game. Ricordo che il gioco è tutto interamente in inglese, purtroppo, c'è nel senso, sia di altri che i sottotitoli, ecco, in poche parole. Vedremo un po' come è insieme a questo Yakuza e se vi piace, io ho giocato al primo, tempo fa, qualche mese fa, e mi piacque da morire, sinceramente tanto. Capitolo 1 Lettera di sangue, mi pare l'abbia detto. Fini anche un po' come è arrivato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vediamo all'inferno. Grazie a tutti. 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 26 anni di differenza, così, in una botta. Siamo akumurocio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Osamu Kajiwaki, patriarcha della family Kazama. Grazie a tutti. 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 , Grazie a tutti. , , grazie a tutti. , 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 ,, , ,, ,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, 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 ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,, , , ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,, Kimita Infernale come vita comunque Infernale Eccolo qua Terada Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Oh si comincia a battere le mani Mi sa Diciamo che è rimasto molto simile Questa va di combattimento Ma io avrei bloccato Figata che c'hanno pure i nomi I cattivi Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua No vabbè Eccolo qua 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 Ok, torniamo in città, praticamente, e dobbiamo trovare Daigo Dojima, appunto, che succede? Ah, welcome to Yakuza Chimami 2 Ah, tipo tutorial, si mi spiegherà come si gioca E tutte queste cose qua Ma, sentite, ma Allora Non solo questa cosa qui È cambiato anche il Menu Eeeh, bene ragazzi Bene, bene, bene Non si può andare né di qua, né di là, né di qua Insomma, al momento non si può fare molta roba Sono macchinette, ma vabbè Allora, andiamo a vedere se troviamo sto, sto uomo Allora, qua c'è tipo un Sexy Club Vediamo chi c'è qua dentro E che sarebbe a sto posto? Ah, hai capito? Staff Holly, ma lo acceniamo lo stesso, benissimo Molto illegal, però A noi piace Vabbè, vabbè Ragazzi, non so neanche cosa sto facendo Non so perché sto a fare ste cose, ma Torniamo indietro, va che forse vedi Allora Allora È chiaro che qui non si può ancora far niente, giusto? No Vieni, no Vabbè Eeeh, scendiamo Abbiamo capito che Non è il nostro posto questo Qua c'è lo shop Vabbè Vabbè, andiamo direttamente alla missione principale Perché Non c'è altro da fare Quindi Facciamo diverso Insomma, lo stanno bullizzando praticamente Vabbè Vabbè Dobbiamo picchiarli, eh Però Meniamo le mani, dai Bello Bello Facile Dai Vabbè Questi vogliono essere menati pure bestie Interessante col biondino Ma tagliano, eh Però Fanno male Mi ha dato una botta No Vabbè Che figata è Ah Ma muori Ok Ma che non muore questo Ho capito Sti coltelli Ho capito Ma non voglio quello io Ah Lo farò così per forza Sta fatto da solo Vabbè Ok Abbiamo fatto quello che dovevamo fare Ottimo Statistiche Ah Si possono anche fare cose interessanti Buono 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 Ha capito Cosa Com'è No basta Io Posso fare le altre Si può Non lo so Si può Però Ma mi sa che Delle altre Non si possono fare Costano troppo Buono Costano una quaresima Ma Ma Quando si costa sta roba Alcune manco si possono fare Quindi proprio 10 10 10 10 10 Sono cose che si faranno Un pelo più avanti Al momento direi che non è Di nostra competenza Questo è il mio beach Prego Ecco Ecco Dai Go to cima Eccolo Red binding E' tipo un cosa Per personalizzare Immagino No Mi da Mi da Delle cose In più Beh Mettiamolo E' arrivo Un attimo Mamma che fretta Che c'è la stagente Ehm Kigoni Bob E' qua Oh Possiamo salvare Beh Sono contento Ehm Minimappa Ok Possiamo correre Vabbè E' anche ora Per attaccare Va bene Qui possiamo salvare No Si può Si può salvare Ok Ottimo Ottimo Che si può salvare Bene Bene ragazzi Direi che Può essere tutto Al momento Abbiamo giochicchiato Una bella Cinquantina di minuti Ehm Gioco molto interessante Ma Che va Approfondito Ulteriormente Anche perché Abbiamo visto Solamente Scene Filmate In cui Vi raccontavano Il primo Yakuza Ehm Che Facevano D'apripista Al gioco Alla trama Di questo Secondo Yakuza Niente ragazzi Direi che è tutto E ci becchiamo Al prossimo video Ciao